Amiche e amici di Rossini TV, bentornati a casa Rossini, oggi è tornato a trovarci Giovanni, Giovanni Arduini, buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti, bentornato, ormai ci serve questa tua presenza, sei il titolare ufficiale delle nostre prime puntate, è necessario averti qui con noi, allora Giovanni Arduini abbiamo tutta questa confidenza perché è veramente una bella presenza qua a casa Rossini, è comunque molto presente anche sulle frequenze di Rossini TV come inserzionista pubblicitario e non solo, con lui abbiamo fatto già delle belle chiacchierate per cui ci sembra quasi superfluo dire delle cose che invece superfule non sono mai, per cui lo presentiamo come si deve, titolare dell'arte del riposo e questo è importante, se no finisce che dici ma chi sono questi due che parlano tra di loro dei fatti loro? due amici che fanno il salotto. Esatto, invece no, noi stiamo parlando di un'attività importante della nostra città che abbiamo avuto già altre volte modo di descrivervi e illustrarvi ma che ci piace anche in questa occasione tornare a farvi scoprire parlandone appunto con il titolare. Come sta andando Giovanni, va bene? Bene, bene. Funziona insomma. Dopo il fuori tutto di ottobre... Fuori tutto di novembre? No, prima ottobre, a novembre invece hai fatto il Black Friday Black Friday a novembre... Che a discapito del fatto che sarebbe un giorno il Black Friday vuol dire venerdì nero, te hai fatto tutto il mese, ti sei allargato. Abbiamo fatto il mese, il mese sì, il mese del sparmio. E allora adesso siamo in procinto di inventarci qualcosa per il Natale, qualcosa... Stiamo facendo già delle... visto che siamo sotto Natale ormai, stiamo facendo dei sconti extra per permettere alle persone di regalarsi per Natale Il buon riposo, diciamo così. Esatto, perché di questo parliamo. Parliamo di un'azienda importante nel nostro territorio che ha fatto una scelta originale, quella di abbinare all'attività di produzione e un'attività di vendita. Si era partiti con uno showroom già bello corposo, bello grande e novità di questo 2021 è stata l'estensione ancora, 450 metri, mi piace dirlo, con i materassi in esposizione, già anche abbinati ai letti, questa è un'altra delle particolarità. Si, dove abbiamo messo, siccome collaboriamo, come dicevo anche nelle puntate precedenti, con aziende locali, artigiani, amici, siamo tutti amici, collaboriamo, c'è questa esposizione dove io espongo e vendo il mio prodotto che produco e faccio. In più esponiamo anche i letti di queste aziende, letti in ferro, letti imbottiti, contenitore, non contenitore, insieme a questi anche sono letti di questi artigiani locali. Certo, 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 per cui si dà spazio e possibilità di farsi anche conoscere, oltre che vendere, anche a realtà. Bisogna lavorare qui nel locale e dare una mano, darci una mano tra di noi a poter rafforzare questa terra produttiva che abbiamo qui nella zona. Dobbiamo cercare tra di noi di aiutarci, anche perché abbiamo un prodotto che non ha nulla da invidiare da quello che si porta da fuori, per cui perché andare a acquistare, mettere aziende dall'esterno, portarle qua e far soffrire i nostri locali? Il famoso chilometro zero, facciamo il chilometro zero, aiutiamoci da di noi, lasciamo i soldi a peso e non mandiamoli fuori. Certo, 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 è un'intuizione importante, bella, che sta dando dei bei risultati e così come sta dando dei bei risultati la sottolineatura all'attenzione speciale al riposo, perché poi alla fine il materasso sta in camera, il giorno si rifà il letto, uno passa tutta la giornata e rischia di dimenticarsi, quando se lo ricorda, se lo ricorda la sera quando va a dormire e poi sta male, gli fa un po' mal la schia, la mattina dice, beh, mi alzo e c'è il rischio di dimenticarsi. Invece la tua attività, insieme a tante altre, ha messo una particolare attenzione in questo momento della nostra giornata, che è un momento fondamentale. Noi cerchiamo, come tu giustamente hai detto, molte persone, il materasso è un oggetto che ci deve essere sul letto per mettersi giù la sera a zaiarsi. Molti hanno, si svegliano, come dicevi tu, ma di schiena, ma del corpo, ma la spalla, ma tanto è l'età, ma tanto è il lavoro. Poi, fortunatamente, acquistano un materasso nuovo, dietro il consiglio, si consiglia, quello, si fa una, diciamo, gli si dà una consulenza, li rivedi, oh, ma sai che io ho mal di schiena, mi è passato? Ah, a me faceva male il collo, mi è passato, perché pensavo che all'età invece era il materasso, perché il materasso, come dici tu, vai a letto, alla mattina rifai il letto, lo copri, rimande lì. Te lo dimentichi, no? E poi magari acquisti l'oggetto elettronico all'avanguardia per poter far vedere che hai, eh, il materasso è lì, no? Io vedo delle cose, a volte, quando vai a portare il materasso nuovo, vedi materassi vecchi, purtroppo, che hanno delle cose indicibili, ma materassi, mi è capitato, materassi di 30 anni, una persona che ha dovuto 30 anni ha lo stesso materasso, ti lascio immaginare le condizioni. Certo, 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 ecco, questo che hai appena detto mi dà la possibilità di agganciarmi, ricordando a tutti che voi fate anche questo servizio importante di portarlo, che non è una roba da poco, lo porti te personalmente, tra l'altro... Lo porto io con l'aiuto dei miei dipendenti, dove serve, ma non solo lo portiamo a casa, perché a casa, diciamo che la consegna a casa la fanno un po' tutti oggi, però a casa molti intendono al numero civico, alla porta, poi dopo un problema tuo dentro casa. Noi invece te lo portiamo fino al letto, anche perché noi chiediamo di poter visionare il supporto dove va appoggiato il materasso per dare una garanzia maggiore che il materasso lavori bene, perché anche lì il discorso materasso rete adattato, a volte la rete ha dei problemi, o si è piegato, si è rotto una doga, o un motivo o un altro, il materasso diciamo, guardi, il materasso nuovo l'hai speso dei soldi importanti per farsi un buon supporto, la rete sotto secondo noi facciamo vedere i difetti di quali sono, poi dopo il cliente a scegliere se vuole chi stare, vuole stare così, vuole andare a prendere da noi, da un'altra parte, quello che lui inizia solamente è quello che sono, diamo un'ultima consulenza con la consegna, ne diamo insomma. Certo, certo, oltre a quella che hai proposto e che ha abbastanza rilevanza e importanza di andare anche a fare il suo prologo prima. Sì, come ti dicevo, ti raccontavo prima, capita spesso persone che hanno problemi a muoversi, a raggiungersi o hanno difficoltà a rilevare le misure o hanno timore di sbagliare, ci chiedono venite voi, lo ordiniamo, facciamo l'ordine e poi venite voi prima di farlo controllare, noi ci mettiamo d'accordo, negli orari possibili per tutti, andiamo a controllare, 10 minuti di tempo facciamo questa cosa. Questa è la forza importante del rapporto personale e del lavoro artigianale, avete sentito prendiamo le misure, perché? Perché il matrasso viene fatto sull'ordine, questa è la cosa importante. Voi quando entrate, a parte il fuoritutto che aveva uno scopo, che era quello comunque di rinnovare l'esposizione ed è uno scopo importante che diciamo dichiara anche un altro aspetto della serietà dell'azienda di Giovanni, cioè dopo un po' i materassi, anche quelli in esposizione, è ora di cambiarli. E allora ecco, ovviamente sono nuovi perché sono in esposizione, però dicevo, quello che voi fate è realizzare su richiesta esattamente quello che serve e a quel punto anche con misure, se serve, diverse o particolari. Siccome la nostra azienda è una piccola azienda artigianale e abbiamo tanti modelli in produzione con tante varianti di tessuti e di materiali, diamo la possibilità al cliente di cucirsi all'adosso, dire la mia misura è questa, lo voglio più rigido, più morbido, lo voglio con il tessuto, con la fibra d'argento, oppure con l'aloe, oppure con il lino, quello che è, e noi facciamo il matrasso volta per volta, infatti da noi, se ci viene a dire ordine il matrasso adesso, lo voglio fra due ore, ci metti in crisi, tra virgolette, perché noi il magazzino è finito, cerchiamo di contenerlo perché poi ognuno ha la sua richiesta, insomma. Esatto, esatto, i tempi di consegna, di circa? No, noi una settimana, noi abbiamo orientato la produzione con un ciclo settimanale, per cui tutti gli ordini la settimana, la settimana dopo vengono prodotti i vasi, per cui normalmente una settimana. A volte quando c'è l'esigenza che due o tre giorni può capitare, lo mettiamo in mezzo, lo facciamo anche in due o tre giorni, ma per avere una fluidità, diciamo, un ciclo settimanale più o meno. Il motivo per cui abbiamo avuto Giovanni qui con noi in questo dicembre è perché ci piace l'idea di sottolineare che il materasso potrebbe essere anche un autoregalo o un regalo da fare per Natale, un regalo importante, perché è un regalo non tanto e non solo importante dal punto di vista economico, ma è importante perché dura nel tempo. Se te fai un regalo a qualcuno, quello pensa a te tutte le sere, insomma per un bel po'. No, no, ma mi capita spesso sotto Natale, tanto ormai dopo tanti anni, di genitori che regalano il materasso i figli, ma figli sposati poi, perché magari i giovani si sposano, hanno figli, magari hanno qualche difficoltà, i genitori lo regalano per loro stessi, sono 10-20 anni che tommeno il materasso, ci regaliamo il materasso per migliorare il sonno o perché vogliono rinnovare la casa. No, sotto Natale è un bel periodo di rinnovamento, insomma, un bel periodo di rinnovamento. Se uno tutte le sere, prima di andare a dormire, avesse un salvadanaio e ci mettesse le monete del giorno, quelle che gli rimangono nelle tasche, in un anno è... Ora, tu fai un calcolo, noi abbiamo trovato un calcolo che se tu consideri un materasso da 500 euro, cifra ipotetica, diviso 10 anni, sono 50 euro l'anno, diviso 365 giorni ti costa come una sigaretta, per cui è la questione di mentalità, pensare all'importo nell'immediato non suddiviso nel tempo, infatti ci aiuta molto il discorso dei finanziamenti, dal frottero, perché possono spalmare questo acquisto nei mesi, non si trovano la cifra importante in un colpo solo, diciamo, e agevolano l'acquisto, agevolano, invece di acquistare il materasso economico dove dormirebbero male per altri 5-6 anni, acquisto del materasso migliore, dormono bene per 10 anni e la cifra che pagano, probabilmente, non li mette in crisi. La gamma è molto estesa di tutto quello che tu puoi proporre, di tutte le tipologie? Noi abbiamo tutte le tipologie oggi esistenti, del livello di materassi, dalle molle, molle dipendenti, i memori, i sciumati, di tutte le tipologie, in più noi avendo anche, facendo tutto noi internamente, per cui noi non è che assembliamo, noi abbiamo la materia prima, memory, il blocco intero, grande, 2 metri per 2 metri, alto un metro, con dei pantofi tagliamo, per cui tagliamo gli spessori che vogliamo, le sagume che vogliamo e abbiamo la possibilità di fare tante varianti, tante, in base alle richieste che vogliono. Certo, e poi c'è questa novità dei Tempur? Il Tempur sì, quello lì è un prodotto a sé, quello lì è, diciamo che è il fiore Rocchiello, ci hanno dato la possibilità di essere esclusivisti, per cui avere l'esclusiva di questa azienda mondiale, la più grande al mondo a livello di numeri di produzione e di fatturati mondiali, per cui stiamo parlando di un colosso, che poi sono gli originali con il certificato NASA, hanno un materiale tutto particolare, abbiamo questa esposizione da loro fatta per far conoscere questo prodotto, per far vedere il vero memory, come viene chiamato lei, memory, in realtà viscolastico, cos'è? L'altra volta ci hai spiegato bene questa cosa di Tempur, ma magari se qualcuno non avesse seguito la precedente puntata facciamo un piccolo riassunto, si tratta di un materasso realizzato con tecnologia NASA sviluppata per le tute degli astronauti e con questa licenza vengono realizzati questi materassi che sono il caso unico nel quale voi non siete i produttori diretti, però non si diceva l'altra volta, non entri in competizione con te stesso sulla linea perché si pone proprio con un altro target, no? Bravo, è un altro target, è una nicchia a sé, praticamente quello non va in concorrenza con un tipo di prodotto che c'è in commercio, per quanto si vogliono scimiotteare il marchio NASA, tutti perché abbiamo il memory, quello che vende dalla NASA, nessuno vende dalla NASA, neanche il mio, sono prodotti che hanno copiato, ma sono brutte copie, ma lo dico tranquillamente proprio per il fatto che il memory buono che si usa, che uso anch'io, comunque lavora bene, non è che quello lì... No, no, è chiaro, è chiaro, è chiaro. Quello lì, diciamo, ha una marcia in più, ha delle prestazioni maggiori, proprio per il fatto che questa è una cosa nata esclusivamente dalla NASA, che considera che al mondo solo 10 persone conoscono la ricetta per fare questo prodotto. Sì, lo dicevamo, è un po' come la Coca-Cola, quelle... Per cui esiste la Coca-Cola, esiste la Coca-Cola, esiste la Pepsi-Cola, però la Coca-Cola è quella, esatto. Non che gli altri falskifo non si bevono, è solo che... E qui siamo, e tra l'altro, come dicevamo l'altra volta, hai avuto l'esclusiva, che se non l'avessi avuta te l'avrebbe avuto un'altra, per cui anche commercialmente è importante che c'è stato questo riconoscimento nei confronti della vostra azienda, che è stata riconosciuta come degna di rappresentare e di commercializzare. E allo stesso tempo, appunto, va a completare una gamma che comunque ha la forza di essere la tua gamma, quella di cui abbiamo parlato fino adesso, che è la produzione. Lo spiego perché potrebbe essere capito mai, dice come, quelli che fa lui allora non sono come... No, no, io diciamo... Abbiamo la Ferrari da una parte e abbiamo tutte le altre marche dall'altra rappresentate di, diciamo, parlando di... abbiamo la Ferrari da una parte, ma ci sono anche altre macchine sportive che vanno bene, che vanno forti, diciamo. Esatto, esatto, esatto. Però quella lì è perché c'è una nicchia di mercato che vuole quel prodotto, no? Non è che è un prodotto che vendi tutti i giorni come vendiamo, come produco i miei, i miei tutti i giorni produco il mio prodotto, o per la nautica, o per il privato, o per il rivenditore, quello lì è una cosa, una tantum, ma diciamo che dà, fa capire meglio alle persone cos'è, come dicevo prima, questo prodotto che tutti cercano di copiare, ma si avvicinano, ma non ci arrivano. Esatto. Avendo fatto questa scelta di realizzare una sorta di, l'altra volta avevamo considerato un catalogo dal vivo, no? Nel senso che il catalogo è bello, si sfoglia, si guarda, le foto sono fatte bene, eccetera, però poi dopo non ci si sdraia sul catalogo, no? Invece avendo avuto questa bella idea di realizzare un catalogo dal vivo attraverso questo showroom di 450 metri, l'obiettivo è quello che la gente venga a trovarti e questo è il punto chiave. Per cui noi in queste trasmissioni cerchiamo di convincere chi è a casa che un passaggio, un salto, una visita comunque all'arte del riposo in, ricordiamo, strada Montefeltro 49, che ricordiamo è praticamente di fronte, in linea d'aria dall'altra parte dello spartitraffico rispetto alla celeberrima Media World, a cui tanto è inutile che, cioè non è che siccome noi lo diciamo gli facciamo più pubblicità, voglio dire, è un riferimento e è una visita che merita, perché poi si entra in contatto diretto con quello di cui fino adesso abbiamo parlato tutti. Sarebbe meglio arrivareci un po' stanchi così uno si sdraia... Guarda, se vuoi andare a cieca la sera, ti chiudo lì, c'è un riscaldamento, ti spingono le luci, non è un problema. Esatto, tu arrivi e dici, ma lo voglio provare, però lo voglio provare per davvero, non solo stendendoli un attimo, dormendoci proprio. Ma la cosa bella che poi fa ridere, le persone arrivano a provare il materasso, si siedono timorose, dicono, ma si sdraia, no? Si sdraia, tre secondi, si sono in piedi, no, no, ma sì o no, morbido, duro, eh? E noi gli esortiamo, ma sia cinque minuti in regata che il corpo si rilassa e sente l'effetto che fa, perché il materasso bisogna adeguarsi con il corpo, no? E allora noi gli esortiamo a stare giù, sdraiati, rilassati, cioè proprio perché va provato in quel modo lì. Come dicevi prima tu, il nostro è un catalogo vivente, tant'è vero che io ho a un certo punto io ho a un bivio, devo fare, rifare o il catalogo cartaceo o fare questa cosa nel negozio, io ho trascurato, tra virgolette, per un anno il catalogo cartaceo perché le mie forze le ho investite in questa cosa qua perché ci credevo di più. Certo, certo, certo. E a questo punto, appunto, l'operazione pubblicitare, promozionale è focalizzata sul fatto venite, insomma, venite a trovarci, venite a provare. Noi chiediamo una chance di prova, provateci, venite a vedere, valutate, ma vedo che quelli che vengono poi difficilmente non rimangono clienti nostri perché poi chi viene normalmente a girato, la concorrenza, per cui ha visto qualità, ha visto prezzi, vede i nostri e si rende conto che comunque noi non avendo meno passaggi perché produciamo e vendiamo, non abbiamo rivenditori, rappresentanti, trasporti, siamo più convenienti a parità di qualità prezzo, poi se qualcuno si ferma solo sul prezzo che vuole prezzo base, ma su internet non è il nostro cliente, insomma. Sì, 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 voi proponete cose di qualità che hanno comunque un giusto costo, hanno un giusto costo inferiore a quello che si trova in commercio. Esatto, nel quale l'abbassamento rispetto a pari qualità è dovuto al fatto che siete venditori diretti del vostro prodotto. Sì, non è risparmiare la qualità del metterasso per avere un costo minore, ma abbiamo tagliato tutti i costi diretti, dal produttore al consumatore, non c'è il rappresentante, il rivenditore, il trasporto che viene da fuori, ci vuole il trasporto, noi abbiamo direttamente, produciamo e vendiamo, anzi vendiamo poi produciamo. Esatto, e infatti questa qui è la cosa importante perché poi tra l'altro questo comprime ancora di più la vostra necessità di fare magazzino, di fare tutte queste cose, per cui anche per voi è un'economia di scala che potete riverberare il prezzo finale a tutto vantaggio del consumatore. Sì, perché tanto lo sai bene, meglio di me, avere un magazzino significa avere costi di spazio, costi di disacenza che poi vanno ricaricati sul prodotto finale, invece avendo un magazzino più stretto che gira velocemente, entra, produce e consegni, ci permette di avere dei costi più bassi. Insomma funziona, funziona questa cosa, allora noi vi invitiamo ad andare a fare così, a passare un po' di tempo, non andateci se ci avete solo 5 minuti però di più, andateci con un po' di tempo per stendervi, portatevi un libro da leggere o quello che fate a letto oltre a dormire magari. Abbiamo anche la radio con la musica, posso ascoltare la musica. E allora, e allora, manca solo il televisore davanti, qualcuno che viene lì a guardare Rossini TV, mettete un po' di schermi con Rossini TV. Potremmo organizzarci. E ci potremmo organizzare. La gente viene, sta lì un po' e dopo quel quarto d'ora insomma si capisce che la differenza c'è. Non è capitato mai che qualcuno sia addormentato? No, c'è qualcuno che arriva stanco, c'è ho lavorato, sono stanco, vedi che hanno un po' però no, quando le persone arrivano noi li lasciamo liberi di provare quello che vogliono, voi provate quello che volete, poi in base alle vostre indicazioni, mi piace più quello o quell'altro, poi vi spieghiamo, vi indichiamo, facciamo, proprio per non condizionare né con la qualità né con il prezzo, neanche perché poi le persone magari con il fiato sul collo si rigidiscono, provate quello che volete, poi noi vi spieghiamo, se volete le spiegazioni ce le chiedete, senza problema. Bene, allora Giovanni abbiamo finito il nostro tempo, tu ci devi fare una promessa che se qualcuno si addormenta però, tu zitto zitto prima di svegliarlo gli fai la ripresa di qualche minuto con la telecamera, poi naturalmente gli chiediamo il permesso e lo mangiamo in onda, meglio, miglior pubblicità di quella non ci sarebbe secondo me. Ah sarebbe il massimo. Sarebbe meglio di così non si può. Bene, ancora grazie allora e a questo punto ti facciamo anche gli auguri per un Natale bello e ricco di vendite perché poi sappiamo che al di là dell'aspetto commerciale la soddisfazione di migliorare la vita delle persone è quella che un po' rafforza la convinzione. Grazie ai nostri telespettatori e ai nostri telespettatrici e vi invitiamo naturalmente a rimanere sempre con i programmi di Rossini TV, l'appuntamento a una prossima puntata di Casa Rossini, Giovanni, grazie ancora. Grazie a voi. 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 Grazie.